...tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Il portiere la spedisce su. David. Prova la giocata in... Ecco il tiro! Non si fermano più, ancora segno! Un 1-2 veramente da K.O. Un fantastico tiro al volo per un grande gol. Una conclusione da urlo. Vede la palla, cerca di stinto la volée e calcia con grande convinzione. Un gol davvero da brivile. Dopo 35 minuti è il numero 11.